Dopo un inizio di weekend tremendo, finalmente la domenica, giornata finale della Open Cup 2019, si apriva con il circuito sette laghi di Castelletto asciutto, sebbene abbastanza freddo. La nebbia infatti copriva il pallido sole, tenendo le temperature sotto i 10 gradi per tutto il giorno. Un anno fa il bulgaro Zolov era felice di essere riuscito ad entrare in finale. Oggi il vincitore di Lonato e leader della Open Cup in 60 mini è decisamente l'uomo da battere. Vinta alla prefinale A parte dalla pole, al fianco del siberiano Dmitry Matveev. Per Zolov non è obbligatorio vincere la finale per aggiudicarsi il titolo, ma al via sembra faticare anche per aggiudicarsi la Open Cup, quando lo passano sia Matveev che Tavini Skul e l'altro lusso Skulanov. Ma il piccolo leone bulgaro non si arrende e comincia a risalire il gruppo fino alla prima posizione raggiunta nelle fasi finali, ma Matveev risponde con un sensazionale sorpasso all'ultimo giro, negando a Zolov la doppietta. Il russo vince, ma Zolov basta il secondo posto per portarsi a casa la Open Cup. Alle loro spalle Skulanov terzo, Chianoblum quarto, Prizowski quinto e Tavini Skul solo sesto. Già vincitore della VSK Euroseries, Andrea Antonelli corre tutto il weekend davvero padrone della OK Junior, mostrando una netta superiorità tecnica sul gruppo. Eppure dopo il primo giro della finale, Antonelli è solo ottavo, mentre Marcus Amand, che vinceva questa gara qui un anno fa, passava in testa e provava la fuga. James Wharton, autore di una partenza fulgorante dalla terza fila al secondo posto, doveva alzare però bandiera bianca per un guasto all'acceleratore. Antonelli comincia una bellissima rimonta, passando prima Bedrim, Stensor e Dehan, per poi ingangiare una bella battaglia con Ugucucu e Severiukin, ma alla fine non può raggiungere Amand, che tagliava il traguardo primo per la seconda volta di fila qui a Castelletto. Non è finita qui però, Amand infatti, dopo aver corso tutti e 16 i giri della finale sotto investigazione, viene punito con 3 secondi di penalità per partenza irregolare, il che significa che Antonelli può festeggiare, oltre al titolo dell'Open Cup, anche la vittoria nella finale. Taylor Barnard e Joseph Tarnay si schierano primo e terzo al via della finale della OK, a dividere il duo britannico, il russo Kirill Small. Dei tre è Tarnay a partire meglio e a prendere il comando, ma la gara è resa dura dagli attacchi di Small, che non molla, almeno finché Tarnay non lo spedisce a fare un'escursione nell'erba della via di fuga. Tarnay e Barnard continuano a comandare il gruppo, ma Adilano Vanhoef, tra Viesanutto e Coluccio, accorciano su due di testa. Splendido Coluccio che arriva fino al terzo posto, segnando anche il giro più veloce della gara. Ma occhio a Small, che non ha mollato dopo l'escursione sull'erba e torna rabbioso nel gruppo, lottando come un leone, riesce a tornare al terzo posto. Tarnay intanto riesce nell'impresa di difendersi da Barnard e a vincere la gara. Barnard, secondo, mondo, si consola con la vittoria della Open Cup. Resta ancora una gara per chiudere questa splendida decade di competizioni WSK, questa settimana sulla pista dell'Adria Karting Raceway, con la Final Cup 2019.